Sono quelle notizie che spesso non trovano spazio nei giornali o perché sono di scarsa rilevanza, ma questa la merita per davvero, soprattutto perché dietro a un lavoro di squadra c'è attaccamento alla maglia e anche il cuore per lottare. Così è accaduto per le Under 14 della Libera Virtus Volley, allenate da Cosimo di Lucia, che tre giorni fa hanno disputato la finale di categoria provinciale, battendo il Real Sport Orta Nova per 3-1. Una gara in cui le ragazze hanno dato il meglio del loro bagaglio tecnico, recuperando da una difficile situazione di svantaggio. La gara si è mantenuta avvalbitante in tutti e quattro i set e per loro la soddisfazione più grande, la vittoria. Adesso prepareranno la fase regionale. Sarà un po' più dura, ma siamo certi che l'orgoglio cirignolano preparerà per portare a casa un altro prestigioso risultato per la nostra terra, che sta sempre più diventando la città dello sport, che sa vincere con le facce pulite e gli sport cosiddetti minori. Mimo Siena, Speciale Muse.